L'ipertensione è il fattore di rischio cardiovascolare certamente più diffuso nella popolazione arrivando al 55% e probabilmente anche oltre nei sistemi sociali più evoluti. Anche l'Italia si allinea ovviamente a questo dato. Nell'ambito quindi di questa importante problematica patologica cardiovascolare è fondamentale la conoscenza del problema da parte del paziente e il giusto approccio anche dei medici che hanno cura dei propri pazienti. Nell'ambito del rischio cardiovascolare poi se ulteriori fattori di rischio si aggiungono all'ipertensione quali per esempio il colesterolo, il diabete, il fumo o anche la familiarità ovviamente il rischio cardiovascolare di questo paziente diventa forte, diventa importante ed è importantissimo iniziare un trattamento di l'ipertensione il più precocemente possibile. Nell'ambito della prevenzione e quindi del controllo dell'ipertensione anteriore la casa di cura Tortorella ha organizzato per il 17 novembre e sabato una giornata che si estenderà dalle 9 alle 14 della mattinata nella quale i pazienti potranno venire e gratuitamente effettuare un elettrocardiogramma avere la consistenza dei propri fattori di rischio attraverso un colloquio con uno specialista ed eventualmente dei consigli da utilizzare sia in ambito di modifiche dello stile di vita o di natura farmacologica da poter poi concordare con i propri medici di medicina generale. Non affidarti al caso, prevedi.